Ciao la sera che manda dei messaggi Buonasera Siccome io purtroppo ho questo carattere sul del toro Ecco vedi, dico che segno è? Gemelli, ve l'ho detto Porca miseria, perché me i gemelli mi prendono un po' tutti per il culo, capito? Allora, sto scherzando, sto scherzando Però voglio sapere, posso sapere chi scrive? No, stavo guardando Ma che stai guardando? Sei in un concerto? Il nome delle coniste Ah, te ne dico subito Le ho presentate quando te scrivevi Roberta Granà Eh, che è molto brava Un applauso a Roby, un applauso a Roby E la Galaxy Ma ti stai annoiando? Allora, visto che c'è Allora, è vero, è vero Allora sei un gemelli di ascendente toro No, no, no È vero, Laura Pausini parte con il suo world tour Sono io C'è anche la cosa quella, guarda Avvicinati anche tu Oh 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 oh